Il prossimo mercoledì 30 ottobre avrà inizio la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2019-2020. La vaccinazione, rende noto l'ASL, viene effettuata dai medici di famiglia, dai pediatri di libera scelta e presso gli ambulatori vaccinali dei distretti sanitari dell'ASL. Anche quest'anno, spiega l'azienda sanitaria salernitana, si perseguirà l'obiettivo di prevenire le forme gravi e complicate di influenza in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Tra cui anziane e persone di tutte le età affette da malattie croniche. Le categorie a rischio a cui sarà offerta gratuitamente la vaccinazione sono i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, le donne in gravidanza e i bambini di oltre 6 mesi con malattie croniche, bambini o adolescenti in trattamento cronico con acido acetilsalicilico. Adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti, personale sanitario, familiari di soggetti a rischio, il personale di servizi pubblici, i lavoratori a contatto con animali ed i donatori di sangue. Si ricorda che la prevenzione dell'influenza inizia dalle piccole azioni di igiene quotidiana, lavarsi frequentemente le mani, riparare il naso e la bocca quando si starnutisce, stare a casa quando si è malati, utilizzare mascherine se si hanno sintomi influenzali e ci si trova in luoghi affollati come scuole od ospedali. Per maggiori informazioni sui centri vaccinali è possibile consultare il sito www.aslasalerno.it nella sezione vaccinazioni della home page.